Per l'Orerro allora un'altra manita da parte della Battipagliese, si è andata a vincere 5-0 a Caggiano, insomma un risultato fondamentale prima dello scontro diretto dell'8 gennaio. Sì, è stata una partita importante, era importante vincerla per rimanere la stessa distanza dalla capolista che a meno uno da noi e certamente adesso dobbiamo preparare bene l'incontro dell'8 gennaio per cercare di fare il nostro all'intera possibile, anche se sarà una partita molto difficile e delicata. Ecco, per quanto riguarda la rosa dei giocatori, stanno tutti bene o ci sarà un periodo anche di riposo, qualche giorno di riposo? Noi ci alleneremo durante la sosta natalizia quasi sempre, chiaramente tranne il 25 e il 26 e il primo di gennaio, per il resto saremo sempre sul campo per preparare bene questa partita. La rosa sta bene, abbiamo inserito in organico anche un nuovo innesto che è Antonio Cerrato, un giocatore di esperienza che conosce il calcio da tanti anni e quindi ci siamo rinforzati in un organico che era un pochettino carente, il centro campo. Per il resto stanno tutti bene, insomma dobbiamo preparare bene chiaramente questa partita che comunque sulla carta non è facile perché loro sono un'ottima squadra. Colgo l'occasione in particolare per fare un sereno Natale e un buon inizio di anno a tutti gli sportivi battipagliesi. Grazie.